oggi fratelli vi parlerò della risurrezione dei morti la risurrezione dei morti è una dottrina molto importante infatti se leggiamo leggiamo in ebrei in ebrei al capitolo 6 leggiamo queste parole perciò capitolo 6 dal versetto 1 e 2 perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a cristo tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte della fede in dio della dottrina dei battesimi della imposizione delle mani della risurrezione dei morti e del giudizio eterno qui vedete lo scrittore agli ebrei pone una serie di dottrine di conoscenza praticamente che il credente deve avere di determinati argomenti di determinate verità della parola di dio di determinate verità di che vengono da dio e qui le considera che sono insegnamenti elementari cioè elementari perché sono insegnamenti semplici ma nello stesso tempo sono fondamentali che questi sono delle dottrine queste qui sono delle dottrine tra cui c'è quella della risurrezione dei morti sono delle dottrine che tutti i credenti devono conoscere tutti i credenti devono sapere come stanno le cose per quanto riguarda questi argomenti perché perché se se uno fallisce nel se uno non conosce oppure si è sviato dalla verità di queste dottrine fondamentali e non potrà poi collegare tutte le tutte le altre perché essendo queste fondamentali tutte le altre cose che noi andremo a conoscere a studiare e ad apprendere non devono in nessuna maniera contrastare contrastare queste dottrine fondamentali sono chiamate dottrine fondamentali che sono appunto il fondamento del cristiano quindi ogni cristiano ogni credente tutti coloro che sono figlioli di dio che hanno creduto in cristo gesù devono conoscere queste dottrine alcune di queste credo che quasi tutte le abbiamo già affrontate oggi affronteremo quella della risurrezione dei morti che è una dottrina fondamentale è una dottrina fondamentale ma anche difficile da credere per taluni infatti leggiamo leggiamo nei vangeli andiamo adesso al vangelo di matteo nel vangelo di matteo leggiamo che anche i tempi di gesù c'erano anche se facevano parte del popolo di israele e il popolo di israele aveva ricevuto dai profetti la promessa della risurrezione dei morti e c'erano quelli che ci credevano però c'erano anche quelli come i sadducei ad esempio che non ci credevano quindi c'erano all'epoca di gesù i sadducei che non credevano alla risurrezione dei morti al capitolo 22 di matteo dal versetto 23 leggiamo appunto le parole queste le parole di matteo che riguardano i sadducei che non credevano nella risurrezione dei morti in quelli stesso giorno vennero a lui dei sadducei i quali dicono che non vi è risurrezione e gli domandarono e poi gli chiesero gli fecero una questione perché perché volevano difendere la loro posizione si chiesero diciamo fecero delle domande a gesù per cercare di metterlo in difficoltà per cercare di dimostrargli che la risurrezione non esisteva perché questi sadducei non credevano nella risurrezione e gesù ha risposto loro vedete quindi che la risurrezione dei morti è una cosa fondamentale abbiamo visto prima in ebrei abbiamo letto che è una dottrina fondamentale ma non dobbiamo escludere quindi che ci siano anche in mezzo come c'erano in mezzo al popolo di israele delle persone che non credevano nella risurrezione dei morti così anche in seno al popolo di dio oggi possiamo incontrare noi qualcuno che non crede nella risurrezione dei morti ecco quindi che dobbiamo noi diciamo ammonirli severamente però prima di questo dobbiamo esporre la dottrina chiaramente della risurrezione dei morti fagli capire che questa dottrina importante questa conoscenza di quello di questa nostra speranza di risuscitare dei morti è fondamentale per la nostra salvezza è così fondamentale che anche paolo ai corinzi scrive queste parole perché anche i tempi di paolo c'erano in mezzo alla chiesa badate bene vi sto citando questi passaggi per farvi capire che bisogna conoscere diciamo la dottrina bisogna conoscere che c'è una risurrezione dei morti ma non dobbiamo dimenticare che possiamo incontrare che ci può essere anche in mezzo alla chiesa qualcuno che non ci crede alla risurrezione dei morti in prima corinzi leggiamo prima corinzi capitolo 15 al versetto 12 dal versetto 12 leggiamo or se si predica che cristo è risuscitato dai morti come mai alcuni fra voi dicono che non vi è risurrezione dei morti vedete qui paolo scrive ai corinti scrive ai corinzi ma egli dice che alcuni fra di voi quindi paolo ha scritto l'epistola ai corinzi e alcuni c'erano alcuni fra i corinzi fra i credenti di corinto che non credevano nella risurrezione quindi paolo ha dovuto scrivere per difendere la dottrina della risurrezione dei morti anche ai corinzi questo noi lo leggiamo e quindi sappiamo che siccome quello che è scritto per là dietro è scritto per nostro ammaestramento per nostro insegnamento per nostro ammonimento ecco quindi dobbiamo sapere che in mezzo al seno della chiesa di dio ci sarà sicuramente qualcuno che non crede nella risurrezione dei morti e questa è una dottrina fondamentale quindi chi non crede nella risurrezione dei morti è una persona sviata non è assolutamente nella verità di conseguenza bisogna guardarsi da costui bisogna guardarsi da costoro c'erano anche ad esempio dei greci no ma però ai greci in atti leggiamo che quando paolo annunziò ad atene ad atene annunziò l'evangelo e poi parlò della risurrezione di cristo non credendo questi atei che c'era una risurrezione si presero beffe di lui insomma non ne vollero più sentir parlare però una cosa è che gli atei non credano che i non credenti non credano nella risurrezione dei morti altra cosa è invece che non ci credono i credenti questi i credenti che non credono nella risurrezione nella maniera corretta dico perché dico questo perché dopo leggiamo anche un passo di paolo che scrive a timoteo perché c'erano anche altri che sulla 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 risurrezione dei morti non credevano nella maniera corretta quindi quindi non si è nella verità se non si crede nella risurrezione dei morti ma non si è nella verità neanche se se uno crede come credevano ad esempio immeneo e filetto se andiamo a leggere adesso nella seconda epistola di paola timoteo capitolo 2 dal versetto 16 leggiamo ma schiva quindi paolo che dà degli avvertimenti degli ammonimenti a timoteo e gli dice queste parole tra le altre ma schiva le profane ciance perché quelli che vi si danno progrediranno nella empietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena fra i quali sono imeneo e filetto uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni vedete quindi c'era c'erano anche paolo li aveva conosciuti c'erano questi due uomini che hanno annunziavano qualcosa che era sbagliato per quanto riguarda la risurrezione dei morti questi insegnavano addirittura che la risurrezione dei morti era già avvenuta quindi noi oggi vedremo alcuni passaggi che riguarderanno la risurrezione dei morti che riguarderanno anche il momento in cui avverrà la risurrezione dei morti che è fondamentale anche quella che ci sarà una risurrezione dei giusti ci sarà una risurrezione degli ingiusti e poi vedremo anche che ci sarà come avverrà come avverrà questa come risuscitano i morti come avverrà la risurrezione con quale corpo si si ritornerà in vita innanzitutto dobbiamo sapere questo questo è importante voi sapete che noi siamo stati salvati noi siamo stati redenti cioè siamo stati liberati dalla conseguenza del peccato ma quello che è avvenuto in noi la nostra salvezza è avvenuto per quanto riguarda la nostra anima cioè noi siamo stati redenti per quanto riguarda la nostra anima il nostro corpo ancora non è stato redento noi aspettiamo la redenzione ancora del corpo capite ecco perché ci troviamo a dover combattere ancora con una natura con la natura che è dentro il corpo che una natura che tende a commettere il peccato una natura ancora di corruzione benché siamo stati liberati da ogni da ogni peccato perché noi quando abbiamo creduto nel sacrificio di cristo abbiamo creduto che dio lo ha risuscitato dai morti il terzo giorno siamo stati salvati siamo stati perdonati e purificati da ogni da ogni peccato ma questa redenzione è avvenuta al nostro corpo e alla nostra anima per quanto riguarda il nostro corpo noi aspettiamo ancora che questa redenzione avvenga ora leggiamo cosa dice l'apostolo paolo ai romani al capitolo 8 versetto versetto dal versetto 22 8 22 poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione la redenzione del nostro corpo vedete qui paolo scrivendo ai romani si comprende tra questi che aspettano la redenzione del corpo quindi da una parte adesso vediamo i nefesini che la nostra anima è stata redenta però badate bene il nostro corpo ancora no quindi noi siamo stati salvati in speranza noi aspettiamo per una piena redenzione aspettiamo la redenzione del corpo quindi è importante capite credere in queste cose che il dio redimerà anche il nostro corpo la totalità del nostro essere capite quindi adesso per ora siamo stati salvati abbiamo ricevuto pienamente la salvezza attenzione non sto non si mette in discussione che la salvezza che noi abbiamo ricevuto però abbiamo ricevuto la redenzione della nostra anima ancora quella del corpo non l'abbiamo ricevuta perché la riceveremo la redenzione del corpo avverrà solamente nel momento in cui noi risusciteremo dai morti ecco quindi che è importantissimo anche credere nella risurrezione dei morti e credere che la redenzione del nostro corpo avverrà nel momento in cui noi saremo risuscitati ed ora vediamo cosa dice paolo agli effesini paolo agli effesini scrive queste parole al capitolo 1 paolo dice capitolo 1 versetto 7 poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia della quale egli è stata abbondante in verso noi dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza col farci conoscere il mistero della sua volontà giusta il disegno benevolo che gli aveva già prima in noi stessi formato ma io volevo concentrarmi sul versetto 7 versetto 7 dice poiché in lui noi abbiamo la redenzione quindi paolo scriveva ancora non era risuscitato ancora non aveva neanche lui ottenuto la redenzione del corpo però lui ha potuto dire ha potuto dire chiaramente che abbiamo la redenzione mediante il suo sangue la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia quindi siamo stati salvati i nostri peccati sono stati tutti perdonati sono stati purificati ogni volta che noi commettiamo qualcosa di sbagliato dobbiamo andare a dio dobbiamo andare a dio nel nome di gesù per confessare i nostri peccati e chiedere perdono però vedete comunque dobbiamo credere dobbiamo credere che noi siamo stati redenti la nostra anima però ancora paolo in efesini paolo agli efesini al versetto 14 scrive più avanti scrive queste parole dal versetto 13 in lui voi pure dopo aver udito la parola della verità l'evangelo della vostra salvazione in lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello spirito santo che era stato promesso il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che dio si è acquistati all'ode della sua gloria quindi in pratica paolo ha detto prima che siamo stati redenti e abbiamo tenuto la rim e hanno e aveva lui e anche gli efesini ottenuto la remissione dei peccati questo vale anche per noi che siamo nati di nuovo però poi parla di una piena redenzione vedete una piena redenzione che si otterrà in un momento futuro capite quindi la redenzione l'abbiamo ottenuta ma la piena redenzione ancora no perché ancora il nostro corpo non è stato redento ancora il nostro corpo è debole ancora il nostro corpo è soggetto ad ammalarsi a morire anche a peccare perché quando saremo risuscitati con la pienezza della della redenzione anche del nostro corpo questo corpo sarà sopravvestito e non ci sarà la più la morte che lo colpirà nella malattia e neanche potrà peccare sarà incorruttibile sarà incorruttibile il nostro corpo il corpo che il nostro corpo dopo la risurrezione che sarà sopravvestito di gloria e di potenza quindi siamo in attesa noi dobbiamo a abbiamo la speranza capite abbiamo la speranza della redenzione del nostro corpo noi speriamo quindi nella risurrezione dei morti questa speranza per mezzo della fede diventa certezza quindi noi siamo sicuri quindi siamo salvati per fede perché siamo sicuri che dio quando il signore tornerà risusciterà i morti e anche noi se saremo tra i morti saremo risuscitati se invece saremo tra quel numero di persone che ancora non saranno morti ma saranno mutati in un momento allora saremo mutati però siamo sicuri di ottenere questo se qualcuno qui oggi presente non è sicuro deve esaminare se stesso perché c'è qualcosa che non va nella sua speranza e neppure nella sua fiducia nella sua fede in dio quindi deve esaminare e credere deve studiare le scritture e credere in quello che dice la parola ed oggi prenderemo alcuni passaggi appunto che riguarderanno questa piena redenzione che noi otterremo nel momento in cui risusciteremo con il nostro corpo perché l'anima è immortale noi anche se se uno muore non è che scompare ma vive continua a vivere solo che non ha un corpo è un'anima è in spirito vive in spirito ma non ha un corpo il dio ha stabilito che noi avessimo anche noi un corpo avessimo un corpo anche dopo dopo diciamo per l'eternità un corpo con cui vivere per l'eternità così il dio ha stabilito così come anche ha fatto con gesù cristo perché gesù quando è risuscitato dai morti ha ripreso il suo corpo quindi egli è è anche a il suo corpo un corpo spirituale un corpo potente un corpo glorioso è chiaro ma ha un corpo un corpo di carne ossa che dopo vedremo il passaggio dove dove lo dice quindi vedete era importante sapere questo preliminarmente che siamo stati redenti la nostra anima è stata redenta però il nostro corpo ancora no quindi dobbiamo la nostra speranza è che il nostro corpo sia redento bisogna è il fatto che credere nella risurrezione è molto importante come dice anche i paolo ai romani paolo ai romani ancora dice queste parole al capitolo 10 al versetto 9 dove parla della fede dice queste parole perché se con la bocca avrai confessato gesù come signore e avrai creduto col cuore che dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvato vedete anche per quanto riguarda la salvezza che noi abbiamo già ottenuto per quanto riguarda la nostra anima è compresa anche la il credere nella risurrezione in questo caso il credere nella risurrezione di gesù cristo è fondamentale adesso noi sappiamo e paolo la scrive paolo scusate lo scrittore agli ebrei taluni dicono che sia paolo altri dicono che sia barnaba noi non lo sappiamo non abbiamo la certezza lo dobbiamo definire definire come lo scrittore agli ebrei lo definiamo in questa maniera però se qualcuno dice che l'ha scritto paolo ecco non può anche essere vero una tale cosa però non abbiamo certezza e non possiamo neanche comunque chi lo dice non lo possiamo neanche ammonire per come se avesse detto una cosa sbagliata non si sa comunque lo scrittore agli ebrei aveva messo la dottrina della risurrezione dei morti l'aveva messa come la scritta come una dottrina fondamentale infatti la risurrezione è entrata anche nella salvezza della nostra anima perché perché noi abbiamo creduto in gesù cristo che lui è morto ma abbiamo creduto anche che dio lo ha risuscitato dai morti il terzo giorno e tutto questo credere nel suo insieme ci ha salvati come qui ha detto ha scritto paolo ai romani con con il cuore con la bocca si fa confessione e con il cuore con il cuore un credere profondo un credere che non è un qualcosa solo di esteriore ma è nella sua profondità quindi nella profondità abbiamo creduto che che il dio ha risuscitato gesù cristo dai morti e nella stessa maniera dobbiamo credere dobbiamo credere che il dio risusciterà anche noi anche e otterremo così la piena redenzione la redenzione anche del nostro corpo con la risurrezione dei morti adesso andiamo nel vangelo di giovanni dove gesù parla parla del del della risurrezione dei giusti e della risurrezione degli ingiusti e dice così dal versetto 26 perché come il padre ha vita in se stesso così ha dato anche al figliolo di giovanni 5 26 il versetto che ci interessa in particolare sarà al versetto 28 noi leggiamo un po di contesto anche perché come il padre ha vita in se stesso così ha dato anche al figliolo di avere vita in se stesso e gli ha dato autorità di giudicare perché è il figliolo dell'uomo non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio vedete quindi tanto gesù la prima informazione che ci dà riguarda la risurrezione è questa che tutti quelli che sono nei sepolcri torneranno in vita quindi la risurrezione dei morti riguarderà tutti quanti nessuno escluso questo lo dobbiamo dire perché perché ci sono anche coloro che escludono determinate persone che sono morte dalla risurrezione ad amo alcuni escludono ad amo altri escludono giuda comunque ci sono delle cose strane che girano al credenze strane quindi noi dobbiamo dire quello che leggiamo per spazzare via ogni immondizia ogni ogni cosa che non è conforme alle sacre scritture qui gesù dice tutti quelli che giacciono nei sepolcri quindi tutti quelli che sono morti tutti tutti naturalmente eccezione fatta per quanto riguarda quelli no che riceveranno comunque un corpo glorioso anche quelli che saranno trovati ancora viventi che non gusteranno la morte quelli che saranno trovati viventi che saranno trasformati in un batter d'occhio al ritorno del signore ci sono anche quelli ma qui gesù dice che tutti quelli che sono nei sepolcri quindi consideriamo quelli che sono morti tutti quindi nessuno escluso ritorneranno in vita però qui dice qui dice ancora che le risurrezioni saranno di due tipi ci sarà la risurrezione dei giusti e la risurrezione degli ingiusti quindi risusciteranno tutti ma ci saranno quelli che risusciteranno i che ci saranno i giusti e ci saranno la risurrezione di giudizio per gli ingiusti e ora quindi dobbiamo dobbiamo vedere le scritture andiamo andiamo a vedere cosa ci dicono le scritture per quanto riguarda la risurrezione dei giusti e cosa invece ci dicono le scritture per quanto riguarda la risurrezione degli ingiusti paolo scrive della risurrezione dei giusti paolo ne scrive ai tessalonicesi quindi adesso dobbiamo andare a tessalonicesi prima epistola di paolo ai tessalonicesi nella prima epistola capitolo 4 al versetto 13 4 13 in poi fino al 18 leggiamo queste parole che riguardano la risurrezione dei giusti or fratelli non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza poiché se crediamo che gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati il dio per mezzo di gesù cristo per mezzo di gesù li ricondurrà con esso lui poiché questo vi diciamo per parola del signore che noi viventi i quali saremo rimasti fino alla venuta del signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo con la tromba di dio scenderà dal cielo e i morti in cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il signore nell'aria e così saremo sempre col signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole quindi vedete qui paolo dice se la condizione parla naturalmente di quelli che sono già morti se crediamo che gesù morì e risuscitò se crediamo la condizione così pure quelli che si sono addormentati dio per mezzo di gesù li ricondurrà con esso quindi se noi crediamo che gesù cristo è morto ed è risuscitato è così anche dobbiamo credere che il dio è potente da risuscitare anche gli altri che moriranno in cristo quegli altri che gli altri che sono morti in cristo e poi dice qui che ci saranno qui rivela questo l'apostolo paolo che ci saranno quelli lui si mette tra questi ci sarà noi saremo rimasti fino alla venuta del signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il signore stesso vedete con potente grido con voce d'arcangelo con la tromba di dio quindi con al suono dell'ultima tromba troviamo scritto in un altro passaggio quelli che sono morti risusciteranno cioè ritorneranno in vita capite riprenderanno il corpo ritorneranno con un corpo dalla terra ritorneranno con un corpo che sarà glorioso non non sarà un corpo simile al precedente ma sarà stavolta glorioso incorruttibile indistruttibile risusciteranno quindi ci sarà i gesù con un potente grido con un potente grido che chiamerà alla risurrezione i suoi santi questa è stiamo parlando della risurrezione dei giusti perché come abbiamo detto prima dopo ci sarà anche la risurrezione degli ingiusti ma questo avverrà la risurrezione dei giusti avverrà al ritorno del signore con quando ci sarà il suono dell'ultima tromba la risurrezione dei giusti che viene chiamata anche la prima risurrezione questo perché per distinguerla dalla seconda che è una risurrezione di giudizio una risurrezione in cui torneranno quelli che diciamo saranno poi puniti di un'eterna distruzione saranno scaraventati nello stagno di fuoco e di zolfo quindi la prima risurrezione la risurrezione dei giusti la risurrezione di vita viene anche chiamata la risurrezione la prima risurrezione e questo lo leggiamo in apocalisse al capitolo 20 leggiamo capitolo 20 al versetto 4 naturalmente qui praticamente la situazione è questa che il signore torna dal cielo a diciamo ritorna dal cielo e distrugge distrugge adesso il tempo diciamo è diverso ma avviene che avverrà che al ritorno del signore anche l'empio la bestia e il falso profeta saranno scaraventati vivi nello stagno di fuoco di zolfo al ritorno del signore inizierà il millennio cioè un periodo di tempo di pace e di tranquillità nella terra sulla terra un periodo di tempo che durerà mille anni in cui Gesù regnerà sul popolo di su tutta la terra ma in particolare si dedicherà al popolo di israele il quale si sarà convertito a colui che hanno trafitto si convertirà tutto il popolo di israele quando lui tornerà comunque ritornando al nostro soggetto quando Gesù ritornerà i morti in cristo risusciteranno e lo andranno ad incontrare nell'aria come abbiamo letto in tessalonicesi quelli che saranno morti insieme a quelli che saranno ancora viventi saranno trasformati insieme andranno ad incontrare Gesù nell'aria e qui in apocalissia il versetto capitolo 20 versetto 4 leggiamo queste parole poi vidi dei troni e a colui e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare e vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorata la bestia né la sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte sulla loro mano ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni questa è la prima risurrezione beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione vedete su loro non ha potestà la morte seconda ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni quindi vedete chi parteciperà alla prima risurrezione che sarà la risurrezione dei giusti saranno quelli che regneranno con Cristo saranno quelli che saranno salvati saranno quelli quindi che non saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo quindi beate santo chi partecipa alla prima risurrezione una delle cose che accadrà a costoro che sarà che risusciteranno sarà quello di essere giudicati sì perché saranno giudicati sia quelli che risusciteranno alla fine ma saranno giudicati anche anche davanti al tribunale di Cristo saranno giudicati anche i santi quelli che saranno che avrà che saranno risuscitati alla prima risurrezione alla risurrezione dei giusti e questo lo leggiamo nel seconda corinzi seconda corinzi al capitolo 5 al versetto 10 leggiamo queste parole poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo secondo quel che avrà operato o bene o male quindi il popolo santo il popolo gli eletti coloro che risusciteranno che parteciperanno alla prima risurrezione alla risurrezione dei giusti si saranno giudicati dal tribunale di Cristo però sarà un giudizio si presenteranno davanti al tribunale di Cristo per ottenere il premio capite sarà un tribunale stabilito in base alle opere che uno ha compiuto quando era nella carne in base alle opere che uno ha compiuto otterrà un premio quindi fratelli cosa ci fa capire questo che qui non ci dobbiamo risparmiare considerato che tanto siamo qui considerato che il tempo è breve considerato che che siamo in questa carne dobbiamo applicarci il più possibile a fare a santificarci prima di tutto e a fare il bene a compiere tutto il bene che Dio ci dà di compiere le opere che Dio ci mette davanti senza risparmiarci per niente perché perché dobbiamo badare anche al premio quando il Dio ci risusciterà dai morti con la sua potenza ci presenteremo davanti al tribunale di Cristo e otterremo anche il premio quindi il premio dovuto a che cosa alla fatica che noi avremo 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 alla fatica le opere che noi avremo compiute qui sulla terra quando eravamo eravamo nella carne quindi ci dobbiamo dare da fare dobbiamo essere fedeli prima di tutto al Signore mantenerci fermi nella fede ma anche possibilmente darci a compiere tutte quelle opere che Dio stesso attenzione Dio stesso mette davanti a noi non è che ci dobbiamo mettere a compiere delle opere lontane da noi ce ne andiamo tutti in Africa per dire a evangelizzare a fare del bene no a compiere quelle opere che Dio ti mette davanti poi sarà poi lui il Dio il Signore Gesù Cristo che siederà nel tribunale e ci darà la retribuzione delle opere che noi avremo fatte se saremo stati fedeli egli ci darà il premio che meriteremo quindi non dobbiamo innanzitutto perdere il premio dobbiamo applicarci per ottenere questo premio dobbiamo lavorare per ottenere questo premio e dobbiamo rimanere fedeli sin alla fine perché c'è anche la possibilità che noi non arriviamo sin alla fine se ci sviamo quanta la verità ecco quindi che la dottrina della risurrezione dei morti essendo una dottrina fondamentale anche questa rientra nelle conoscenze fondamentali ed elementari che il cristiano deve avere deve conoscere per non sviarsi dalla verità per ottenere alla fine della sua corsa in questa vita in questa terra per ottenere appunto il premio finale perché uno può aver anche faticato tanto per il Signore nella sua vita terrena però arriva a un certo punto che si svia dalla verità ecco in questo caso la sua giustizia le sue opere come scritto nei profeti non sarà più ricordata quello che vale è la fine di una cosa quello che vale meglio è la fine di una cosa non il suo principio certo se non c'è un principio non ci può essere neanche una fine questo è chiaro ma se non c'è ma se c'è l'inizio ma alla fine è sbagliata se la fine è lo sviamento è il rinnegare Cristo è abbandonare la verità l'inizio anche se è partito bene non importa quello che noi saremo valutati partendo dalla fine di come avremo finito la nostra vita su questa terra qui dobbiamo farci trovare allora fratelli e sorelle ci dobbiamo far trovare con la fede nel nostro cuore e anche abbondanti nelle opere buone perché così quando ci presenteremo davanti al tribunale di Cristo essendo risuscitati dai morti nella prima risurrezione nella risurrezione dei giusti così otterremo il premio delle nostre fatiche quindi ognuno riceverà un premio diverso dall'altro quindi abbiamo visto che c'è una risurrezione dei giusti e il tribunale che assegnerà il tribunale di Cristo che assegnerà quindi il premio ma come abbiamo detto c'è anche una risurrezione una risurrezione degli ingiusti ma prima di parlare della risurrezione degli ingiusti mi volevo ancora soffermare su quella dei giusti e determinare il tempo ecco questo era importante quando avverrà la risurrezione dei giusti dobbiamo tenere presente che quindi dobbiamo sapere che la risurrezione dei giusti ci sarà avverrà ma bisogna stare attenti anche al quando perché come abbiamo letto Paolo prima aveva scritto a Timoteo che c'erano Imeneo e Filetto che andavano in giro ad annunziare che la risurrezione la risurrezione dei morti era già avvenuta sovvertendo la fede di tante persone di diverse persone sovvertendo le mettevano sottosopra praticamente le sconvolgevano magari avevano udito parlare in una certa maniera della risurrezione questi ti vengono a dire no guarda che la risurrezione è già avvenuta e questi se gli credono se gli credono ecco che la loro fede è sovvertita si sviano quindi tutti dalla verità dando retta alle falsità avviene appunto questo avviene che ci si svia dalla verità è come se si sta seguendo un percorso se uno ti dice guarda che quella via è sbagliata devi seguire questo sentiero e noi deviamo quindi dalla via e ci mettiamo a seguire un sentiero che non sappiamo dove porta poi siamo sviati dalla verità dalla via della verità perché Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita se noi non camminiamo nella via, nella verità e nella vita in quella strada e siamo sviati non stiamo camminando nella via che mena al cielo stiamo camminando in una via che mena da un'altra parte ecco quindi che la conoscenza la parola di Dio cos'è? la parola di Dio quindi con tutte le verità con tutte le dottrine che essa comprende è una lampada al nostro piede che illumina il sentiero che noi dobbiamo percorrere e quindi dobbiamo stare attaccati alla parola di Dio conoscerla come va conosciuta attenzione perché la parola di Dio va conosciuta nella maniera corretta bisogna tagliare rettamente la parola di Dio quindi bisogna applicarsi per studiarla pregando il Dio che ci dia quell'intendimento per tagliarla rettamente perché purtroppo oggi voi lo sapete ognuno di noi viene da una certa realtà più o meno dolorosa però veniamo tutti da una realtà esterna di qualche comunità di qualche gruppo di persone dove comunque avete potuto constatare di persone che insegnavano cose non vere e se voi rimanevate là vi addormentavate eravate sviati quanto alla verità purtroppo in queste comunità ci sono ancora tanti fratelli cari fratelli per noi ma se credono più al pastore che alla parola di Dio capite? questi sono sviati quanto alla verità sono sviati stanno camminando in un altro sentiero qui non si tratta di cose e poi non si tratta che insegnano dottrine soltanto secondarie diverse dalle scritture che sono secondarie ci sono anche delle dottrine che sono fondamentali hanno attaccato la nuova Gerusalemme l'inferno le fiamme dell'inferno la predestinazione quindi la sovranità di Dio la gloria dell'iddio vivente che se ne vogliono si sono appropriati della gloria di Dio non credendo appunto nella sovranità di Dio nella predestinazione hanno cominciato a insegnare proprio a riguardo della risurrezione dei morti hanno cominciato ad insegnare che i morti saranno rapiti saranno rapiti nel cielo saranno rapiti prima della grande tribolazione cosa che assolutamente non è vera questo del rapimento segreto poi magari lo affronteremo più dettagliatamente un'altra volta ma non è assolutamente vero quindi vedete creano una falsa speranza nei fratelli ci sono dei fratelli che pensano che Gesù può tornare anche questa notte quando non è assolutamente vero e questo lo vedremo adesso leggiamo qualche passaggio che ci fa capire il momento preciso in cui naturalmente noi non lo conosciamo il momento preciso nel senso individuato in mezzo a determinati segni ma non è il momento preciso che vi posso dire il giorno l'anno il giorno e l'ora questo non lo so quindi non ve lo dirò ma credo che voi sapevate già che non ve l'avrei potuto dire quindi io non lo conosco non ho ricevuto rivelazioni e quando anche ricevesse rivelazioni dovrò stare ben attento ad annunziare un giorno il momento preciso come tempo è come tempo dando proprio il giorno e l'ora ma comunque ci sono quelli che si azzardano a dire che tornerà quanti ne abbiamo incontrati anche nei nostri questi anni che hanno detto che tornava a maggio poi viene a giugno e poi viene a ottobre insomma e non si è adempiuto nulla ma perché erano cianciatori perché non avevano ricevuto nessuna rivelazione da Dio noi comunque ci atteniamo alla parola la parola che non ha mai fallito io non mi sono mai trovato male con la parola non mi ha mai ingannato mi ha sempre ripreso esortato consolato guidato illuminato il sentiero che dovevo percorrere quando ho sbagliato è perché non ho seguito quel percorso e quando ho seguito quel percorso si è adempiuto tutto come la parola sempre diceva mi ha sempre guidato e aiutato quindi io per adesso posso dire e credo che possiate dirlo anche voi la parola non ci ha mai traditti quello che ci ha traditti è magari qualche rivelazione qualcuno è venuto a noi a dirci fratello sorella ho questa rivelazione e magari contrastava le sacre scritture ecco questi gli uomini ci possono tradire possono fallire possono sbagliare deluderci anche ma la parola finora non ha mai fallito e non mi ha mai deluso e quindi andiamo alla parola per imparare anche queste cose che riguardano il momento stabilito da Dio quando deve avvenire la risurrezione dei morti e questa vi posso preannunciare che avverrà quando avverrà ve l'ho anche già preannunciato la risurrezione dei morti quella dei giusti sto dicendo quella risurrezione dei giusti la risurrezione di vita avverrà nel giorno della venuta del Signore non prima e non dopo avverrà il giorno perché come abbiamo letto come anzi dobbiamo leggerlo ancora non l'abbiamo letto abbiamo letto l'altro passaggio della prima epistola di Tessalonicesi adesso andremo a leggere le cose che riguardano appunto che il rapimento della Chiesa quindi la risurrezione dei morti e quindi il rapimento che andremo tutti ad incontrare il Signore nell'aria avverrà nel momento in cui il Signore tornerà dal cielo tornerà sulle nuvole così come è stato visto salire nel cielo così sarà così ritornerà andiamo per vedere per leggere questo il momento in cui gli eletti saranno rapiti a incontrare il Signore lo leggiamo anche dal Vangelo di Matteo capitolo 24 capitolo 24 dal versetto dal versetto 25 ecco ve l'ho predetto se dunque vi dicono eccolo e nel deserto non vi andate eccolo e nelle stanze interne non lo credete perché come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente così sarà la venuta del figliol dell'uomo dovunque sarà il carname qui si raduneranno le acquile or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate e allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli vedete fratelli Gesù quando tornerà quando tornerà il giorno che lui tornerà il giorno della sua venuta e gli manderà i suoi angeli dopo con un suono di tromba quindi sempre al suono dell'ultima tromba manderà i suoi angeli a radunare gli eletti gli eletti che riguarda anche quelli che sono morti quelli che sono ancora viventi ma anche quelli che sono morti saranno tutti radunati gli eletti quelli che sono morti in Cristo risusciteranno ed ecco quindi che al ritorno del Signore saranno tutti radunati ed andranno come abbiamo letto nella prima epistola ai Tessalonicesi andranno ad incontrare Gesù nell'aria ma e quando abbiamo letto questo passaggio per capire quando avverrà il momento specifico in cui avverrà questo radunamento dei Santi quindi ci deve essere la risurrezione dei morti nel momento in cui verrà il giorno del Signore nel momento in cui tornerà il Signore dal cielo tornerà sulle nuvole ecco quindi che ci sarà l'adunamento il cosiddetto rappimento della Chiesa e quindi con il precedente risurrezione ritorno alla vita dei morti e il mutamento di quelli che sono ancora vivi che saranno trovati ancora vivi al ritorno del Signore quindi quelli mutati ancora viventi e quelli che tornano in vita che risuscitano dai morti ecco che questi tutti insieme vanno ad incontrare Gesù nell'aria quando lui sta venendo dal cielo così è scritto nel Vangelo di Matteo che abbiamo letto vedete è importante questo perché ci sono quelli come ho detto prima che dividono il ritorno del Signore in due fasi in una fase quella del rapimento della sua chiesa avviene in modo segreto che nessuno lo vede e poi quando invece quando tutti lo vedranno sarà in una seconda fase quindi sono in due giorni suddivisi suddivisi da tre anni e mezzo sette anni dipende dalla linea che vogliono adottare naturalmente queste sono invenzioni dell'uomo sono tutte invenzioni non c'è nessun passaggio biblico che ci dica che il ritorno del Signore è suddiviso in due fasi addirittura qui nel Vangelo di Matteo abbiamo visto vedete al versetto 30 lo leggiamo ancora e allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria ma scusate ma se lo vedranno tutte le tribù della terra vuol dire che non viene in segreto perché attenzione dopo è scritto che manda i suoi angeli a raccogliere gli eletti eh gli eletti e quindi sta c'è il rapimento questo momento riguarda il rapimento della chiesa non esiste nessun rapimento segreto il rapimento della chiesa avverrà in faccia tutte le tribù della terra sarà un giorno di gloria per i redenti un giorno terribile per quelli che non hanno creduto ma un giorno un giorno di gloria e potente per Gesù Cristo e anche per i redenti che saranno rapiti saranno raccolti adunati con il Signore lassù nell'aria quindi anche anche questo insegnamento falso collegato al rapimento della chiesa diciamo non ha motivo di esistere la scrittura lo annulla con quello che è scritto ma ne troviamo conferma sia per quanto riguarda il momento e sia anche che annulla questa falsità del rapimento segreto lo troviamo scritto anche nell'epistola di Paolo ai Tessalonicesi in questo caso la seconda epistola qui seconda Tessalonicesi al capitolo 2 al capitolo 2 i primi versetti Paolo ai Tessalonicesi seconda epistola 2 1 or fratelli circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni sia da discorsi sia da qualche epistola data come nostra quasi che il giorno del Signore fosse imminente nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato il figliolo della perdizione l'avversario colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio od oggetto di culto fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio allora in questi passaggi voglio farvi notare che c'è la parola giorno due volte or fratelli innanzitutto cosa verrà in quel giorno in quel giorno verrà quello che c'è scritto al versetto 1 al versetto 1 c'è scritto circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui vedete quindi nello stesso giorno avverrà la venuta del Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui quindi il rapimento della Chiesa con il ritorno del Signore avverranno avverranno nello stesso giorno questo perché lo voglio far notare quel giorno voglio far notare quel giorno perché questi dicono che sono i giorni perché dividono il rapimento della Chiesa dall'avvenuta del Signore ci sono quelli che predicano appunto il rapimento segreto che avvengono in due momenti diversi quindi uno lo chiamano l'avvenuta del Signore che è quando tutti lo vedranno un altro giorno invece prima qualche anno prima avverrà il rapimento della Chiesa quindi non l'avvenuta del Signore ma il rapimento della Chiesa vedete suddividono questi due eventi gloriosi questi due eventi che poi è uno solo in se stesso lo dividono in due parti in due giorni diversi in due periodi diversi qui invece l'apostolo Paolo dice che la venuta del Signore e il nostro adunamento con Lui sono nello stesso giorno infatti dice dice al versetto 2 vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni sia da discorsi sia da qualche epistola data come nostra quasi che il giorno del Signore fosse imminente perché qui sta parlando del giorno del Signore che il giorno in cui avverrà la sua venuta ma anche l'adunamento della Chiesa con Lui e ha dovuto scrivere queste parole perché anche al suo tempo anche al tempo all'epoca di Paolo c'erano quelli che insegnavano cose strane sul ritorno del Signore oggi non c'è quasi nulla di nuovo fratelli e sorelle ci sono invenzioni nuove ma grosso modo ci sono state anche in passato sono attaccati sempre ci sono sempre degli attacchi da parte del maligno che riguarda determinate esperienze del credente determinate promesse di Dio le promesse di Dio sono le cose che il maligno odia di più perché sa bene che si adempiranno odia noi che riceveremo le promesse di Dio odia non solo Dio ma anche noi che siamo quelli a cui le promesse sono state fatte quindi il maligno si applica in tutte le maniere per farci perdere le promesse che Dio ci ha fatto faccio un esempio adesso apro una parentesi perché mi sembra interessante anche questo argomento apro una parentesi cioè che il maligno ad esempio attacca i sogni e le visioni di Dio il maligno attacca le lingue perché perché la promessa dello Spirito Santo del battesimo con lo Spirito Santo è una promessa potente gloriosa che Dio ha fatto alla sua chiesa ecco che il maligno cerca di nasconderla di privare cerca cerca di privare i credenti di questa grande promessa non potendo magari intervenire per diciamo direttamente per riprendersi queste anime portarsele di nuovo nel suo regno nel suo regno delle tenebre cerca in tutti i modi di oscurare la verità di Dio di nascondere le promesse di Dio di fare in modo che i credenti non chiedano non ricerchino e non ottengano le promesse che Dio ha fatto capite questa l'azione del maligno il suo odio la sua gelosia contro la chiesa che riceverà riceve le promesse di Dio ed entrerà alla fine nel regno dei cieli cosa che lui sa bene che non vi entrerà non vi entrerà perché è stato diciamo escluso dal il suo destino diciamo è stato già segnato e questo per farvi capire che tra le promesse che noi abbiamo ricevuto c'è quella del rapimento di essere di ritornare in vita di risuscitare dai morti di ottenere la redenzione del nostro corpo quindi un nuovo corpo glorioso potente indistruttibile incorruttibile immortale glorioso risplendente spirituale e quindi e quindi il maligno non vuole che otteniamo questa promessa potente e gloriosa di Dio ma noi invece dobbiamo essere di quelli che mantengono ferma questa speranza la nostra speranza di avere di vedere un giorno il nostro corpo risuscitare dai morti non deve mai venire meno in nessuna maniera questa speranza deve rimanere sempre viva dentro di noi badate bene quando vi attaccheranno cioè aspettatevi che in qualche maniera verranno quelli che vi attaccheranno in questa speranza perché è una speranza fondamentale come la dottrina della risurrezione dei morti la nostra speranza in questo caso è fondamentale e il maligno i ministri del diavolo quindi attaccano questa speranza le cose un po' tutto attaccano ma le cose fondamentali sono quelle poi che fanno sviare i credenti completamente dalla verità quindi quindi sono attaccate anche queste verità fondamentali quindi abbiamo visto ancora il versetto 3 leggiamo nessuno vi tragga in errore vedete l'esortazione dell'Apostolo Paolo fatta ai tessalonicesi ma è chiaro che queste esortazioni sono valide anche per noi nessuno fratelli e sorelle vi tragga in errore questo perché lo dice Paolo perché ci sono appunto di quelli falsi dottori falsi ministri falsi profeti falsi apostoli che vogliono trarvi in errore anche riguardo il ritorno del Signore anche riguardo il rapimento della Chiesa anche per quanto riguarda la risurrezione dei morti in tutte le cose i falsi dottori cercano di trarre in errore i santi però anche in queste in queste dottrine e Paolo dice nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera poiché quel giorno quale giorno sta parlando del giorno dell'avvenuta del Signore e del nostro adunamento con Lui del rapimento della Chiesa vedete come ancora il Signore parla e scusate l'Apostolo Paolo scrive di quel giorno perché prima ha detto che riguardava in quel giorno sarebbe avvenuto l'avvenuta del Signore e l'adunamento della Chiesa quindi poiché quel giorno non verrasse prima qui Paolo essendo purtroppo anche alla sua alla sua epoca alla sua epoca c'erano quelli che andavano in giro dicendo come poi lo fanno oggi che il ritorno del Signore è imminente e alle porte può avvenire anche questa notte guardate bene in quel passaggio sembra che sta parlando delle Adi e di tutte queste denominazioni che oggi dicono dal pulpito i pastori dicono il Signore può tornare anche questa notte cioè vogliono dire in poche parole in altre parole che il ritorno del Signore è imminente è alle porte sta arrivando e quando uno dice dal pulpito che può tornare anche questa notte lo rende imminente cosa che invece non è così all'epoca sua Paolo ha dovuto dire che non lo era imminente e ne ha spiegato anche i motivi non era imminente perché prima dell'avvenuta del Signore si sarebbe dovuto manifestare prima l'apostasia sarebbe dovuto avvenire prima l'apostasia e poi si sarebbe dovuto manifestare l'empio l'uomo del peccato il figliolo della perdizione l'avversario colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio od oggetto di culto quindi ci sono questi due segni l'apostasia possiamo dire oggi cosa vediamo vediamo questo sviamento generale delle chiese dietro a falsità impressionanti di cui veramente uno fa fatica a credere che delle persone dotate di una normale intelligenza vadano dietro a certe ciance profane che uno rimane veramente meravigliato però è così ci sono quelli che vanno dietro a certe chiacchiere inutili vane facilmente magari smontabili e non dimostrabili biblicamente quindi basterebbe dire tu mi insegni il rapimento segreto ma fammi vedere nella Bibbia un passo preciso dove mi mi parla dove si parla del rapimento segreto perché se quello mi parla di un rapimento della chiesa anch'io sto parlando di alcuni passaggi dove ci sarà il rapimento della chiesa ma questi qui questi non devono dimostrare il rapimento della chiesa devono dimostrare che il rapimento della chiesa avverrà segretamente è questo che devono dimostrare ma è proprio questo che non riescono a dimostrare perché non esiste nella scrittura nella scrittura c'è un rapimento ma non è segreto infatti lui in Matteo 24 abbiamo letto abbiamo letto prima che tutte le tribù della terra lo vedranno lo vedranno se lo vedranno se tutti lo vedranno come faccio a dire io che non lo vedranno cioè capite guardate un po' dove è riuscito a spingere il maligno questi falsi dottori a dire una cosa completamente contraria a quella che è chiaramente scritta cioè loro dicono che quando la chiesa sarà rapita gli eletti saranno rapiti da questi angeli saranno raccolti e portati via nessuno lo vedrà ma scusa ma se c'è scritto che tutte le tribù della terra lo vedranno c'è scritto chiaramente capite quindi niente cioè bastava chiedere basta che qualcuno anche se è ignorante dice ma fratello dove è scritto dove lo posso capire io una frase nella Bibbia che mi indica che il rapimento avverrà segretamente cioè senza che nessuno li veda e non ce n'è fratelli non ce n'è un'invenzione che si sono creati questi personaggi e mi dispiace che molti siano caduti in questa trappola perché sono veramente tanti quelli che sono caduti di tutte le denominazioni eh sono questa falsa dottrina è nata circa il 1830 da una donna che ebbe una rivelazione poi è stata elaborata da un altro Darby mi sembra e poi è andata avanti poi l'hanno inserita nelle notte della Bibbia vedete eh così come perché noi parliamo magari contro la Bibbia cattolica no diciamo ah ma nelle notte hanno messo una spiegazione sbagliata per quanto riguarda la verginità di Maria e tante altre cose no lo diciamo perché è giusto che lo diciamo ma purtroppo la stessa e medesima cosa l'hanno fatta anche nelle Bibbie nostre protestanti cioè la traduzione magari è rimasta fedele così com'era ma nei commenti di queste Bibbie annotate nella Schofield in particolare è stata inserita la falsità del rapimento segreto quindi insieme alla parola di Dio viaggiano sono state stampate queste falsità e hanno permesso la diffusione perché se uno trova un commento nella Bibbia uno un po' sproveduto no un semplicioto un appena convertito uno che magari non si fa tante domande se trova un commento leggendo la Bibbia quasi quasi all'inizio non fa neanche differenza qual è la parola di Dio e quale non lo è capite quindi quindi si trovano ad essere sviati dalla verità questi questi fratelli che non sono stati attenti e non hanno vegliato quindi fratelli abbiamo visto che il momento in cui ci sarà l'adunamento della Chiesa sarà il momento in cui quindi anche quella della risurrezione dei morti perché per esserci l'adunamento ci deve essere una risurrezione dei morti capite noi stiamo parlando oggi in particolare della risurrezione dei morti ma se diciamo l'adunamento degli eletti dobbiamo per forza includere che prima di esserci un rappimento deve esserci una risurrezione come l'ha spiegato i momenti Paolo ai Tessalonicesi che prima risusciteranno i morti usciranno dai sepolcri dai sepolcri dalle tombe dove sono stati seppelliti perché perché riprenderanno i loro corpi i morti riprenderanno il loro corpo certamente come Dio possa fare ci sono stati quelli che sono stati cremati quelli che sono scomparsi completamente vabbè ma Dio saprà come fare egli è potente perché la risurrezione avverrà secondo la potenza dell'idio vivente vero quindi nulla è impossibile al nostro Dio però la cosa fondamentale che dobbiamo sapere è che questa risurrezione avverrà riprendendosi il corpo che noi abbiamo lasciato questo corpo sarà sopravvestito di un corpo glorioso di una veste gloriosa quindi non sarà più lo stesso corpo è chiaro però proviene da quel corpo quindi ci avrà le sue somiglianze ma non sarà la stessa natura di questo di questo corpo che abbiamo adesso anche se sarà somigliante e dopo vedremo quando parleremo anche della risurrezione di Gesù perché la nostra risurrezione avverrà similmente a quella di Gesù di conseguenza dobbiamo esaminare la risurrezione di Gesù per comprendere anche come avverrà la nostra risurrezione adesso ci stiamo concentrando sull'aspetto del quando avverrà il momento specifico in cui avverrà la risurrezione dei morti sarà quello del ritorno del Signore non prima e non dopo capite? quindi tra quelli che insegnarono delle falsità sulla risurrezione dei morti c'era anche Giovanni Luzzi ve lo dico perché che praticamente lui asseriva che la risurrezione dei morti avveniva nel momento in cui morivano praticamente lui asseriva che nel momento in cui uno muore poi risuscita anche direttamente ma questo non è assolutamente vero quindi vedete non sono Giovanni Luzzi era il presidente della commissione che era capo del lavoro che noi oggi leggiamo un buon lavoro io ritengo alla fine dei conti hanno fatto un buon lavoro nella versione quella chiamata riveduta la riveduta Luzzi viene chiamata però il fatto che abbia il fatto che abbia fatto abbia sia stato a capo di questa presidenza di questa commissione vedete non ha escluso il fatto che lui poi abbia insegnato insegnava e credeva cose sbagliate a riguardo della risurrezione e anche altre cose che adesso non mi vengono in mente ma ce ne erano diverse comunque questo l'ho detto per farvi capire che falsità sulla risurrezione possono essere le più diverse le più disparate però chi conosce chi si attiene alla verità riesce poi a riconoscere la falsità capite quindi chi conosce la verità non deve temere la menzogna perché perché la verità se tu conosci la verità tutto il resto che non è verità è per forza di cose menzogne capite quindi chi conosce la verità non deve temere nessuna menzogna non è che si deve preoccupare adesso come farò se viene uno a dirmi no tu devi impegnarti a conoscere la verità poi tutto quello che non è verità è menzogna quindi devi cacciare via tutto quello che non è secondo la parola secondo verità quindi abbiamo visto che il momento del ritorno del Signore è il momento della risurrezione dei morti è quello avviene nel momento in cui il Signore tornerà in quel momento il nostro corpo sarà redento quindi la nostra redenzione in quel momento sarà piena completa capite alla risurrezione dei morti la nostra redenzione sarà completa sia quella dell'anima avvenuta quando noi siamo nati di nuovo e la redenzione del corpo che avverrà quando noi saremo poi risuscitati dai morti oppure se saremo ancora viventi quando saremo mutati in un attimo in un batter d'occhio saremo mutati e questa era per quanto riguarda la risurrezione dei giusti ma come vi ho accennato prima vi è anche una risurrezione degli ingiusti questa ve la leggo dal capitolo 20 l'abbiamo già accennata prima capitolo 20 versetto 5 del di Apocalisse quindi abbiamo visto da quello che abbiamo letto prima in Apocalisse che c'è stata la prima risurrezione Beate Santo è colui che partecipa alla prima risurrezione al versetto 5 dice il rimanente dei morti non tornerà in vita non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni quindi quando Gesù ritorna inizierà sulla terra un periodo di mille anni un periodo in cui Gesù regnerà sulla terra quindi sarà un regno di pace di giustizia in cui il leone mangerà l'erba come l'agnello capite ci sarà un periodo particolare chi morirà a cento anni morirà giovane in quel periodo quel periodo sarà veramente un periodo particolare le persone vivranno lungamente anche se il peccato ci sarà ancora i morti ci saranno ancora infatti c'è scritto in Isaia che chi morirà a cent'anni morrà giovane quindi comunque morirà e il peccato ci sarà ancora ma alla fine di quel periodo di mille anni qui dice il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni quindi c'è praticamente qui in questi passaggi tra il versetto 4 e il versetto 5 sta facendo la differenza tra la prima risurrezione quelli che parteciperanno i giusti alla prima risurrezione e il rimanente dei morti capite fa la differenza fa la distinzione tra i morti i morti che risusciteranno ritorneranno in vita i giusti che ritorneranno in vita e il rimanente dei morti quindi il rimanente dei morti tornerà in vita dopo mille anni quindi la prima risurrezione quella risurrezione dei giusti e dei santi sarà suddivisa sarà diciamo distanziata ecco diciamo questa parola usiamo questa parola distanziata nel tempo dalla risurrezione di giudizio di mille anni perché le due risurrezioni saranno saranno separate quindi da questo periodo di tempo perché dice il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni ora anche quando ci sarà questa risurrezione ecco così si adempiano le parole che abbiamo letto all'inizio nel Vaggello di Giovanni quando diceva che tutti torneranno in vita tutti tutti udranno la sua voce e torneranno in vita quindi tutti sia i giusti che gli ingiusti solo che i giusti torneranno in vita al ritorno del Signore gli ingiusti alla fine dei mille anni del millennio quindi vedete anche il tempo il tempo anche per quanto riguarda è determinato il tempo anche per quanto riguarda la risurrezione degli ingiusti ora per quanto riguarda i giusti abbiamo visto che i giusti si dovranno presentare davanti al tribunale di Cristo ma un giudizio lo dovranno subire anche quelli che saranno giudicati degni di essere scaraventati nello stagno di fuoco di Zolfo e questo lo leggiamo più avanti nel capitolo 20 di Apocalisse dal versetto 11 leggiamo che quelli che risusciteranno per il giudizio degli ingiusti saranno appunto giudicati e stanno scritte queste parole Giovanni scrive queste parole poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono terra e cielo e non fu più trovato posto per loro e vidi i morti grandi e piccoli vidi i morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono ed i libri furono aperti e un altro libro fu aperto che è il libro della vita e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro e il mare rese i morti che erano in esso e la morte e l'ades resero i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere e la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco questa è la morte seconda cioè lo stagno di fuoco e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco quindi vedete anche quelli che risusciteranno quelli che risusciteranno alla fine del millennio per una risurrezione di giudizio saranno giudicati per le opere che avranno compiute quando erano sulla terra quando erano vivi su questa carne quindi vedete i santi si presenteranno davanti alla risurrezione si presenteranno davanti al tribunale di Cristo per avere un giudizio per quanto riguarda il premio da ricevere per le opere che hanno compiuto quando erano sulla terra quando erano in carne sulla terra ma anche gli ingiusti riceveranno un giudizio in base alle opere quindi avranno una punizione una punizione diversa che sarà variabile in base al peccato in base alle opere che avranno compiute su questa terra quindi anche gli ingiusti saranno subiranno un giudizio subiranno una valutazione delle opere che hanno compiuto sulla terra quindi questo è importante sapere per tutte e due le risurrezioni vedete c'è un giudizio un giudizio sulle opere compiute sulla terra ora vorrei abbiamo parlato quindi delle due risurrezioni del momento e anche viene il momento adesso il momento di parlare anche di come avverrà perché noi ci domandiamo come avverrà abbiamo visto quando avverrà abbiamo visto che avverrà abbiamo visto i due giudizi i due periodi i due tribunali il tribunale di Cristo e il giudizio finale che ci sarà adesso dobbiamo leggere anche domani le risposte che riguardano il come avverrà questa risurrezione quindi qui dobbiamo dobbiamo esaminare alcuni passaggi biblici che ci dicono che come avverrà la risurrezione dei morti ora siccome il paragone come Paolo ai Corinzi scrive queste parole prima prima Corinzi 6 prima Corinzi 6 14 Paolo diciamo rassomiglia la risurrezione dei morti che noi diciamo dovremmo ricevere dovremmo che ci riguarderà la rassomiglia a quella di Cristo e quindi noi giustamente andiamo a vedere la esaminiamo dobbiamo esaminare attentamente la risurrezione come avvenuta la risurrezione di Cristo considerando che questa è già avvenuta e ci sono dei passaggi biblici che la riportano quindi considerando come avvenuta la risurrezione di Cristo noi sappiamo che avverrà similmente anche la nostra risurrezione Paolo dice prima Corinzi 6 14 dice queste parole e Dio come come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza vedete quindi Paolo dice che come Dio ha risuscitato Cristo così risusciterà anche noi allora noi siccome vogliamo sapere ancora come è avvenuta questa risurrezione cioè come avverrà la nostra risurrezione vogliamo conoscere il più possibile ecco quindi che ci dobbiamo rivolgere per sapere qualcosa alla risurrezione di Cristo come è avvenuta la risurrezione di Cristo quindi dalla risurrezione di Gesù possiamo capire determinate cose conoscere conoscere determinate cose andiamo a leggere quindi adesso la risurrezione di Gesù come la spiega dove ne parla Giovanni prendiamo Giovanni la risurrezione di Gesù leggiamo il capitolo 20 di Giovanni dal versetto 1 primi versetti vediamo fino a dove può interessarci il primo giorno della settimana la mattina per tempo mentre era ancora buio Maria Maddalena venne al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro allora corse e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono e si avviarono al sepolcro correvano ambedui assieme ma l'altro discepolo corse innanzi più presto di Pietro e giunse primo al sepolcro e Chinatosi vide i pannellini giacenti ma non entrò giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide i pannellini giacenti e il sudario che era stato sul capo di Gesù non giacente coi pannellini ma rivoltato in un luogo a parte allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto primo al sepolcro e vide e credette perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti ora cosa è avvenuto alla risurrezione di Gesù la pietra fu spostata cioè la tomba fu aperta per quale motivo la tomba fu aperta fu aperta perché Gesù uscì con il suo corpo cioè praticamente i discepoli guardarono dentro la tomba di Gesù ora non che non potesse passare anche con la pietra diciamo chiusa perché dopo Gesù dopo la risurrezione Gesù aveva un corpo glorioso come vedremo più tardi passava anche attraverso i muri con quel corpo però quello che voglio farvi notare è che guardarono i discepoli guardarono dentro la tomba e il corpo di Gesù non c'era più perché non c'era più il corpo di Gesù perché Gesù risuscitò con il suo corpo attenzione la sua anima vi ricordate che noi ecco qui ci ricolleghiamo a quello di cui abbiamo parlato un'altra volta precedentemente Gesù con la sua anima andò a predicare nell'Hades va bene quindi rimase lì un po' di tempo perché da quando morì a quando risuscitò Gesù risuscitò il terzo giorno quindi rimase un certo numero di tempo una certa quantità di tempo il suo corpo rimase depositato su quella tomba mentre la sua anima vivente era viva era nell'Hades ma quando Gesù risuscitò la sua anima entrò di nuovo in quel corpo in quel corpo che si è trasformato in un corpo glorioso però badate bene quel corpo è stato ripreso Gesù risuscitò con il suo corpo questo è importante lo ribadisco bene ve lo voglio focalizzare perché altre falsità si dicono sulla risurrezione sulla risurrezione di Gesù che praticamente il corpo è solo spirituale ma non è un corpo di carne e ossa perché adesso noi guardando i passaggi della scrittura che parlano della risurrezione di Gesù considerando che la nostra risurrezione avverrà come quella sarà simile a quella di Gesù avverrà come quella di Gesù ecco che se Gesù è risuscitato in carne ed ossa anche noi saremmo risuscitati in carne e ossa attenzione ma non sarà una carne come questa è chiaro dopo lo andremo anche a vedere e specifichiamo anche questo però la scrittura ci dice che Gesù aveva un corpo di carne e ossa un corpo di carne e ossa spirituale è chiaro un corpo spirituale non un corpo terreno materiale come questo come quello che lui stesso aveva quando era in carne e che l'hanno messa a morte perché dopo la risurrezione quel corpo non morirà più quindi sarà un corpo diverso dal precedente ma non completamente distinto dal precedente questo voglio farvi notare perché la risurrezione avverrà riprendendo il corpo che noi avevamo e Gesù ha ripreso il suo corpo un corpo attenzione glorioso potente un corpo glorioso e potente ad esempio andando avanti vediamo quanto era glorioso e potente al versetto 19 quindi seguendo lo stesso capitolo 20 al versetto 19 leggiamo queste parole or la sera di quello stesso giorno che era il primo della settimana ed essendo per timore dei giudei serrate alle porte del luogo dove si trovavano i discepoli Gesù venne e si presentò qui vi in mezzo e disse loro pace a voi e detto questo mostrò loro le mani ed il costato i discepoli dunque com'ebbero veduto il signore si rallegrarono vedete allora cosa ci fa sapere Giovanni in questo passaggio intanto i discepoli erano chiusi dentro una stanza erano chiusi per timore dei giudei apparve Gesù con il suo corpo di carne e ossa quindi non è un corpo di carne e ossa come questo che noi abbiamo perché noi non passiamo attraverso le porte noi non passiamo attraverso i muri non possiamo passare ecco quindi che il corpo di Gesù che è in carne e ossa ecco che è un corpo spirituale potente infatti è potuto passare attraverso i muri attraverso la porta senza averne nessun danno perché perché era un corpo speciale particolare glorioso spirituale capite quindi e che fosse un corpo che riguardava il precedente come era stato seppellito e lo si capisce perché dice mostrò loro le mani ed il costato questo cosa vuole dire vuole dire che nel suo corpo c'erano ancora i segni i segni dei chiodi e i segni della lancia del suo costato quindi era un corpo glorioso ma portava ancora alcuni segni che aveva ricevuto quando era queste sono le cose che sono scritte fratelli e sorelle così questo è scritto e questo vi devo dire questo dobbiamo capire perché tutte queste cose poi ci serviranno a tenere lontano da noi tutte quelle false dottrine che magari fino ad oggi non sono uscite ma se dovessero uscire domani dove non ci sarò più io non ci sarà più Giacinto non ci sarà più più qualcun altro chi è giovane si troverà a dover affrontare capito magari non si è già scritto in precedenza perché è una falsa dottrina che sorgerà nuova ma da che cosa che cosa proteggerà i santi dalle false dottrine che potranno sorgere in futuro che non se ne è parlato in precedenza la verità fratelli è sempre la verità perché la verità non si può nulla contro la verità quindi è sufficiente conoscere la verità quello che sta scritto nella parola per poter bandire tutte le menzogne tutte le falsità che riguardano le varie dottrine soprattutto quelle fondamentali e questa come abbiamo visto è una la dottrina della risurrezione dei morti è una dottrina fondamentale elementare per un credente che deve conoscere bene deve conoscere bene perché la speranza ha la speranza della risurrezione dei morti e della redenzione del corpo quindi siccome noi siamo salvati in speranza questa speranza non deve venire meno quindi questa speranza deve essere alimentata da cose vere e da cose bibliche non alimentata da illusioni la nostra speranza non deve essere alimentata da illusioni ma da cose vere e cose bibliche cose che sono scritte nella parola di Dio quindi vedete adesso vediamo vediamo abbiamo visto alcuni aspetti che riguardano quindi il corpo di Gesù in Giovanni adesso lo vediamo leggiamo qualcosa anche in Luca perché io voglio voglio insistere sul fatto che era un corpo di carne e di ossa ma perché è scritto non perché lo sto me lo sto inventando io eppure ho sentito poche volte dire anche da nelle varie prediche anzi non si sente si sente pochissimo predicare appunto di queste cose e per quanto riguarda la risurrezione di Gesù che è risuscitato col suo corpo cioè facendo notare appositamente questo non non ho mai udito nulla in queste comunità nelle comunità quelle istituzionalizzate andiamo al Vangelo di Luca 24 dove parla della risurrezione 24 leggiamo dove Gesù allora dove parla quando Gesù appare ai suoi discepoli agli undici capitolo 24 versetto 36 ormentressi parlavano di queste cose Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse pace a voi ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse a loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani ed i miei piedi perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani ed i piedi ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano disse loro avete qui nulla da mangiare essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza vedete fratelli questi altri passaggi cosa ci fanno capire del corpo della risurrezione di Gesù ci fanno capire vedete come Gesù stesso dice che non è uno spirito Gesù non era uno spirito era risuscitato in carne e ossa infatti gli dice palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io vedete è scritto chiaramente qua uno spirito non ha carne e ossa Gesù invece anche se il suo corpo era spirituale perché dobbiamo dirlo è un corpo spirituale quello di Gesù è un corpo spirituale ma è un corpo capite è partito dal corpo che lui aveva infatti questo corpo era in grado anche di mangiare cioè non vi meravigliate io come mangiavo prima posso mangiare anche oggi gli ha fatto capire il Signore Gesù ai suoi discepoli mangiava poteva mangiare anche dopo infatti ci saranno le nozze dell'agnello ci saranno ci saranno diciamo e quelle nozze parteciperanno i santi che saranno risuscitati e quindi mangeranno no se ci saranno nozze festa ci sarà una festa la festa delle nozze dell'agnello e se si mangerà si mangerà si potrà mangiare perché il corpo glorioso di cui sarà sopravvestito il popolo di Dio i santi gli eletti sarà un corpo che potrà anche mangiare sarà un corpo di carne e ossa spirituale però sarà un corpo di carne e ossa ma non sarà un corpo come questo cioè c'è diversità capite adesso l'andiamo appunto a vedere perché questo punto l'ha voluto approfondire anche l'appostolo Paolo con i corinzi adesso quindi avete visto in Luca le informazioni che Luca ci dà al riguardo del corpo di Cristo quindi che era un corpo non era uno spirito è un corpo spirituale perché come abbiamo visto in Giovanni è potuto passare attraverso i muri attraverso le porte quindi è chiaramente un corpo spirituale e nel contempo è nel contempo anche un corpo in carne e ossa è un corpo un corpo che poteva anche mangiare si è fatto servire anche qualcosa da mangiare e Gesù ha mangiato in loro presenza ora naturalmente tutto questo ci sconcerta un po' nel senso che ma come è un corpo spirituale però sembra sembra simile a questo sì sicuramente sarà simile a quello che abbiamo portato sulla terra però sarà un corpo spirituale e di questa problematica Paolo ne parla ai Corinzi al capitolo 15 al capitolo 15 nella prima prima Corinzi Paolo dal versetto 35 Paolo parlando di come risusciteremo del corpo infatti la domanda a cui cerca di rispondere la fa lui stesso dice ma qualcuno dirà quindi prima Corinzi 15 35 ma qualcuno dirà come risuscitano i morti vedete come risuscitano i morti e con quale corpo tornano essi insensato quel che tu semini non è vivificato se prima non muore e quanto a quel che tu semini non semini il corpo che ha da nascere ma un granello ignudo come capita di frumento o di qualche altro semi e Dio gli dà un corpo secondo che l'ha stabilito e ad ogni seme il proprio corpo vedete qui la questione la questione che Paolo stesso ha sollevato che sicuramente l'ha sollevata perché perché sicuramente o gli avranno scritto o gli avranno fatto sapere ma c'era da rispondere a questi quesiti di come risuscitano i morti e Paolo e Paolo ha voluto rispondere facendo delle figure usando delle figure perché effettivamente non è semplice spiegare una tale cosa però usando delle figure ci possiamo avvicinare ecco l'Apostolo Paolo ha usato prima di tutto la figura del seme cosa succede al seme tu il seme lo butti per terra il seme ha la sua grandezza la sua misura il suo colore anche no prendiamo i fagioli i semi dei fagioli sono caratteristici possono essere più o meno diversi di colore diverso va bene il fagiolo è in una certa maniera ma quando tu semini quel seme o un altro tipo di seme dopo esce un corpo da quel seme esce un corpo cioè esce una pianta capite ma vedete che quel quel corpo che esce dopo proviene da quel seme parte da quel seme ma non sarà quel seme perché avrà tutta un'altra fisionomia tutta un'altro corpo tutta un'altra struttura che è il seme però badate bene badate bene che si parte dal seme il seme viene seminato muore e ritorna in vita ritorna in vita e gli viene assegnato da dio un corpo secondo come dio ha stabilito ad ogni seme capite quindi paolo usa questa figura come voler dire che prima bisogna morire no il seme deve morire così come anche noi quando veniamo seppelliti siamo morti quindi dobbiamo prima morire e poi per avere il nostro nuovo corpo glorioso dobbiamo poi dopo prima dobbiamo morire dopo risusciteremo e ci sarà dato il corpo come dio ha stabilito un corpo glorioso potente che non muore che non marcisce che non è corruttibile e paolo fa questo esempio del seme ma andiamo avanti con le altre cose che dice l'apostolo paolo non ogni carne quindi versetto 39 non ogni carne è la stessa carne ma altra è la carne degli uomini altra la carne delle bestie altra quella degli uccelli altra quella dei pesci voi sapete che che abbiamo detto che Gesù è risuscitato in carne ed osso carne prendiamo la carne voi sapete perché la mangiamo perché abbiamo a che fare con i pesci con gli uccelli e con tanti altri bestie va bene e noi mangiando queste carni ci rendiamo conto che le carni sono diverse l'una dall'altra capite le carni la carne del pesce ad esempio la carne del pesce è totalmente diversa dalla carne di maiale ad esempio o di pecora è totalmente diversa è un'altra carne quindi ci sono carni diverse corpi diversi quindi fatti di una carne diversa carne sì ma diverse sono diverse l'una dall'altra così sarà una carne è vera quella una carne che ci sarà data col nostro nuovo corpo glorioso quando saremo risuscitati però attenzione non sarà una carne come questa carne che noi abbiamo adesso non sarà come questa sarà una carne particolare sarà una carne spirituale una carne gloriosa potente diversa sicuramente da questa e poi continuando leggiamo ancora ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri ma altra è la gloria dei celesti altra quella dei terrestri altra è la gloria del sole altra la gloria della luna altra la gloria delle stelle perché un astro è differente dall'altro in gloria così pure della risurrezione dei morti il corpo ecco adesso Paolo dopo aver fatto queste figure dopo aver preso queste figure Paolo vedete parla si riporta sulla risurrezione dei morti così pure quindi dice quello che abbiamo detto vale anche per la risurrezione dei morti raffigurativamente naturalmente così pure della risurrezione dei morti il corpo è seminato corruttibile e infatti il nostro corpo si corrompe il nostro corpo marcisce il nostro corpo si distrugge torna in polvere quando quando viene seminato quando muore e viene seminato viene messo sotto terra no? risuscita però guardate come risuscita viene messo sotto terra corruttibile ma risuscita incorruttibile quindi la corruzione il corpo non la conoscerà più il corpo che noi avremo al momento in cui risusciteremo non non si corromperà più non si distruggerà più non si ammalerà più non avverrà nessun danno al corpo che avremo dopo che saremo risuscitati è seminato ignobile e risuscita glorioso sarà un corpo splendente voi sapete che gli angeli hanno una certa gloria quando appaiono talvolta appaiono splendenti gloriosi ebbene anche il nostro corpo sarà splendente e glorioso non è spento come questo corpo che noi abbiamo qui ma sarà glorioso quando risusciterei è seminato debole e risuscita potente questo corpo si stanca questo corpo è debole non riesce a fare certe cose non riesce a passare attraverso i muri come ha fatto Gesù ebbene sappiate che quando avremo il corpo sarà quando il nostro corpo sarà risuscitato dai morti allora sarà un corpo potente glorioso e potente passeremo dovunque non ci saranno impedimenti per questo corpo non è che saremo come Dio onnipresenti dappertutto noi saremo sempre presenti in un posto solo alla volta come lo siamo adesso però non avrà quel corpo che noi avremo non avrà i limiti non avrà i limiti che abbiamo adesso capite non avrà quei limiti è seminato corpo naturale risuscita corpo spirituale vedete il naturale verrà seppellito e ritornerà in vita come corpo spirituale se c'è un corpo naturale c'è anche un corpo spirituale così anche sta scritto il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente l'ultimo Adamo è spirito vivificante però ciò che è spirituale non viene prima ma prima ciò che è naturale poi viene ciò che è spirituale il primo uomo tratto dalla terra è terreno il secondo uomo è dal cielo quale è il terreno tali sono anche i terreni e quale è il celeste tali saranno anche i celesti e come abbiamo questo è importante fratelli che ci fa riferimento al fatto che noi porteremo il corpo questo corpo lo porteremo anche dopo e come abbiamo portato l'immagine del terreno così porteremo anche l'immagine del celeste sarà un corpo celeste fratelli sarà un corpo sopravvestito di gloria che Dio ci darà però sopravvestirà il corpo glorioso che Dio ci darà sarà un corpo che sopravvestirà questo che noi abbiamo non si scollegherà da questo in una maniera potente e gloriosa e Dio lo trasformerà questo corpo debole questo corpo naturale questo corpo mortale lo trasformerà in un corpo immortale indistruttibile che non può più perire e sarà splendente e glorioso andando avanti vediamo come cosa dice ancora a questo proposito l'Apostolo Paolo or questo dico fratelli che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio infatti non abbiamo trovato che il nuovo corpo sarà di carne e sangue ma il corpo spirituale abbiamo detto che quello di Gesù era di carne e ossa capite non carne e sangue né la corruzione può ereditare la incorruttibilità ecco io vi dico un mistero non tutti morremo ma tutti saremo mutati in un momento in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba vedete questo è al momento della risurrezione dei morti qui Paolo ci fa sapere che ci ribadisce ancora che ci saranno delle persone che non gusteranno la morte quando il Signore tornerà e quando ci sarà la risurrezione dei morti però queste persone saranno mutate in un momento in un batter d'occhio perché la tromba suonerà i morti risusciteranno incorruttibili vedete i morti risusciteranno incorruttibili cioè la corruzione non potrà più toccare e noi saremo mutati cioè saranno mutati quelli che sono ancora viventi perché il loro corpo è ancora diciamo vivente quindi vengono mutati mentre quel corpo che è morto viene rivestito di incorruttibilità e di vite di gloria e di potenza poiché bisogna che questo corruttibile vedete rivesta incorruttibilità quindi questo corpo vedete tutto si svolge comunque attorno a questo corpo capite cioè questo corpo sarà avvolto rivestito dalla incorruttibilità il corpo che noi abbiamo portato qui sulla terra è che questo mortale rivesta immortalità quindi questo corpo sarà rivestito di immortalità quindi non sarà più mortale non morirà più non si morirà più e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità allora sarà adempiuta la parola che è scritta la morte è stata sommersa nella vittoria o morte dov'è la vittoria o morte dov'è il tuo dardo or il dardo della morte è il peccato la forza del peccato è la legge ma ringraziatosi a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo quindi solo quando saremo risuscitati dai morti noi avremo vinto la morte attenzione questo è importante perché oggi sentite dire che abbiamo già vinto la morte ma come facciamo ad aver vinto la morte noi se ancora siamo soggetti alla morte noi più che altro abbiamo vinto la paura della morte capite noi da quando siamo nati di nuovo non temiamo più di morire perché noi sappiamo che Dio ci risusciterà dai morti ci ha salvati ci ha redento la nostra anima e poi redimerà anche il nostro corpo riceveremo la piena redenzione tutto questo per fede e abbiamo questa speranza ma noi quindi vedete vedete che abbiamo vinto il Dio ci ha dato la vittoria sulla morte sulla paura della morte ma ancora io dico adesso a questo momento che non abbiamo ancora ricevuto la vittoria della morte perché la vittoria sulla morte perché la vittoria sulla morte noi la riceveremo solamente quando quando risusciteremo dai morti la morte non ci potrà più vincere capito la morte sarà seppellita no sarà soverchiata la morte è stata sommersa nella vittoria in quel momento della risurrezione Gesù ha vinto la sua morte perché Gesù è risuscitato dai morti quindi Gesù ha già vinto la morte ma noi ancora non l'abbiamo vinta noi siamo stati liberati dalla paura della morte quindi perché perché sappiamo cosa ci aspetta noi sappiamo che cosa ci aspetta dopo la morte di andare e la nostra anima sarà rapita andrà in cielo e sarà con il Signore in attesa della risurrezione dei morti nel quale sarà assegnato un corpo glorioso dove poi quest'anima andrà ad abitare quindi quindi fratelli e sorelle c'era anche questo da dire sulla sulla morte quindi quando risusciteremo dovete sapere questo che noi che noi risusciteremo con un corpo incorruttibile indistruttibile glorioso che non morirà più il corpo sarà questo sopravvestito di questa gloria di questa potenza così nella stessa maniera come è avvenuto a quello di a quello di Gesù Cristo ecco quindi in linee generali vi ho voluto esporre questa dottrina fondamentale della risurrezione dei morti a cui farete bene farete bene ad attenervi strettamente a continuare a studiarla perché sicuramente ci sono altri passaggi che confermano tutte le cose che abbiamo detto e affinché voi la 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 l'atteniate diciamo la assimiliate bene dentro di voi affinché una volta studiata e assimilata non possiate più essere smarriti qualsiasi cosa vi vengano a dire cioè nessuno dovrà sviarvi dalla verità dalla verità di questa dottrina fondamentale guardate bene questa dottrina della risurrezione dei morti nel quale noi riponiamo la nostra speranza quindi vedete quanto è importante la nostra speranza nella risurrezione dei morti affinché nessuno venga con delle falsità con delle ciance con l'arte sedutrice dell'errore con con di soppiato che cerchi di insegnarvi qualcosa di falso a riguardo questa dottrina così come anche nelle altre dottrine fondamentali perché è importante quanto è importante la salvezza la dottrina della salvezza della nuova nascita del del ravvedimento dalle opere morte capite è importante oggi abbiamo visto quindi abbiamo parlato anche del giudizio finale quindi abbiamo parlato della risurrezione dei morti e anche del giudizio finale che delle dottrine fondamentali abbiamo enunciato quasi tutto manca soltanto l'imposizione delle mani ma il resto l'abbiamo l'abbiamo esposto completamente quindi quindi fate bene ad attenervi iniziando appunto dalle dottrine fondamentali elementari cominciando dalla base praticamente poi ci si va allargando nella conoscenza e nello studio però se non si conoscono bene insegnamente di base come si potranno poi conoscere tutti gli altri quindi cominciate a conoscere bene le dottrine fondamentali e così sarà più difficile che voi studiando le altre vi sviate dalla verità studiandole da soli e che neppure siate convinti dai falsi profeti falsi apostoli falsi dottori che veniate convinti di di certe certi insegnamenti falsi contro la verità la conoscenza è un po' come lo spirito come lo spirito santo voi vi ricordate che Gesù parlò di quella persona a cui fu scacciato furono scacciati demoni fu scacciato un demone e se quella stanza rimane pulita e adorna non vi va ad abitare lo spirito santo ecco che quegli spiriti lo spirito uno ne chiama altri peggiori di lui e vogliono entrare di nuovo in quella stanza che la trovano libera e adorna libera quindi questo cosa vuol dire questo paragonandolo al discorso che sto facendo è questo che se la stanza in quel caso gli spiriti immondi vengono contrastati dallo spirito di dio ma nel caso che sto usando quella figura per farvi capire che ma se in noi abita la verità la conoscenza della verità le menzogne che si presentano appunto sospinte da questi spiriti immondi le menzogne anche se si presentano non possono entrare in questa stanza perché in questa stanza c'è già la conoscenza c'è già la verità se c'è la verità se c'è la verità della parola di Dio in abbondanza infatti Paolo esorta affinché la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente cioè in abbondanza non dovete lasciare nulla di intentato nel procacciare la conoscenza della parola di Dio della verità delle dottrine degli insegnamenti quindi sono importanti la dottrina è importante taluni dicono che non è la dottrina che salva la dottrina ci preserva come non salva nel senso che non ci salva all'inizio perché la nostra nuova nascita è giunta quando noi eravamo completamente ignoranti ma la dottrina ci aiuta dopo però a rigettare tutte le falsità ci salva dopo ci aiuta la sana dottrina ad arrivare alla fine ad ottenere la speranza il premio finale ad ottenere appunto il premio della vita eterna quindi la dottrina serve la dottrina serve ed è utile la sana dottrina naturalmente quindi ci dobbiamo attenere a quello che è scritto nella parola di Dio quindi se in noi se nella nostra mente e nel nostro cuore alberga la conoscenza possiamo anche non ricordare i capitoli i versetti precisi però se abita la verità se noi sappiamo che la verità è questa se uno ci dice qualcosa di sbagliato di fuori dottrina noi lo riconosciamo e lo cacciamo via lo lo ammoniamo e cacciamo via tutto quello esaminiamo ogni cosa saremo in grado quindi di esaminare ogni cosa e di rigettare tutto quello che non è secondo le scritture quindi fratelli questo era ciò che volevo dirvi volevo farvi conoscere a riguardo della risurrezione dei morti a Dio sia no la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amin grazie